Guido Migliossi, non è una vittoria come le altre per te questa? No, è una vittoria speciale, è stata la mia prima vittoria da professionista e adesso per il futuro sono molto più carico e non vedo l'ora di ricominciare. Play-off, quando si vince il play-off devi avere tanto da dare, soprattutto tanta testa perché poi la fatica si comincia a far sentire sotto tutti i punti di vista. Sì, diciamo che... Contaci com'è andata, perché noi abbiamo testimoniato tutto con le immagini. In poche parole ho finito il giro delle 18 buche, che ero partito stamattina alle 10, quindi non avevo neanche pranzato. Ho consegnato lo score e mi hanno detto di andare subito in T di partenza e lì si sentiva la pressione, però sono rimasto calmo e ho aspettato fino alla fine il buon colpo e lì ho segnato la vittoria. E invece, nella quattro giorni, qual è stato l'altro momento decisivo in cui hai dovuto superare qualche difficoltà? Il secondo giro stavo sopra par, stavo più uno a tre buche da finire. Poi ho finito molto bene facendo birdie-eagle birdie e mi sono portato a casa un meno tre, che è stato un buon risultato per andare in lotta per la vittoria. Grazie a? Grazie al mio maestro, grazie alla testa, grazie allo swing, grazie... Grazie... Lo si dice.